La trasmissione di Rai 3, chi l'ha visto, ha riaccesso riflettori sulle numerose incongruenze della vicenda che riguarda Providenza Grassi. Tanti lati oscuri che le perizie dei tecnici incaricati e soprattutto l'autopsia del medico legale dovranno chiarire nelle prossime ore. A fare discutere sono le modalità della scomparsa della sfortunata ragazza, secondo gli inquirenti vittima di un incidente stradale. A confermare l'ipotesi sarebbe una fotografia diffusa da Messina Ambiente, scattata l'11 luglio a poche ore dal presunto sinistro, in cui sembra scorgersi proprio la sua automobile. Una carreggiata del tratto di autostrada incriminato è stata inibita al transito ormai da giorni, sequestrata anche un'isolata stradina adiacente alla tangenziale che sporge proprio a pochi metri dal viadotto in fondo al quale è stato ritrovato il corpo della 27enne. Gli accertamenti dovranno chiarire se il mezzo è effettivamente smandato in autostrada, centrando il guardrail danneggiato da un impatto, o se invece possa avere percorso quell'angusta e poco utilizzata arteria secondaria. La redazione di chi l'ha visto ha acquisito e riproposto in onda anche le nostre immagini del 23 luglio scorso, realizzata dal cameraman Natale Orare per un servizio sulla mancata manutenzione dell'autostrada Messina Catania. A 13 giorni della scomparsa di Providenza Grassi, il guardrail sembrava infatti integro, comunque in condizioni migliori rispetto al giorno del ritrovamento del suo cadavere. Tecnici e inquirenti dovranno chiarire insomma se la vittima ha effettivamente perso il controllo del mezzo in autostrada lo scorso 10 luglio, o se viceversa il danneggiamento possa essere avvenuto dopo nel corso di un altro incidente. I giornalisti di Rai 3 si sono chiesti infine perché il guardrail non sia stato ancora rimosso e analizzato con maggiore attenzione dal momento che un'autostrada potrebbe anche essere nuovamente colpito da qualche mezzo in transito. Probabilmente si ritiene sufficiente la collocazione dei birilli in mezzo alla carreggiata, ma è ovvio che la parola fine su questa triste vicenda è ancora lontanissima.